All'inizio della stagione la sua avventura milanese aveva preso i contorni dell'incubo, spaisato, impaurito, assolutamente avulso dal gioco della squadra, tanto da far storcere il naso ai tifosi e far riempire di dubbi i sonni di coach banchi. Ma come si sussurrava nei corridoi del forum? Un giocatore di livello NBA con quel talento e quella atleticità può fare brutte figure una dietro l'altra? Pensavo di essere sulla strada giusta, soprattutto dopo la buona prestagione che ho giocato. Dovevo solo trasferire tutto in campionato, ma il basket come tutti gli altri sport è una scommessa. Qualcosa non ha funzionato, quindi ho deciso di tornare in palestra, metterci uno sforzo maggiore per cambiare. Non ho dovuto modificare molto, solo un paio di movimenti che qui non sono consentiti. Qui poi c'è sempre qualche avversario dentro l'aria e quindi è difficile attaccare sempre il ferro, anche perché quello non è sempre il miglior tiro per te stesso e per la squadra. Quel periodo delicato sembra per ora essere passato, perché Marshall Brooks è ormai da due settimane che sta dimostrando, in Eurolega come in campionato, che in attacco può essere davvero devastante e l'Olimpia pare abbia trovato il suo terminale offensivo che tanto gli mancava per essere un pochino meno prevedibile. Certo, ora sono molto più a mio agio ed ho molte più opportunità di giocare. Cerco di essere aggressivo per tutti i 40 minuti ma il cambiamento maggiore è nella fiducia. Ora ho capito che non devo andare sempre vicino al ferro perché c'è sempre qualcuno che mi aspetta e so che devo prendere i tiri che mi dà la difesa. Ora si tratta di trovare la continuità e ad abbinare al livello del gioco anche i risultati, a cominciare magari dalla sfida impossibile con il Barcellona, alla quale non potrà partecipare Alessandro Gentile. Ora siamo una squadra migliore rispetto a quella che ha affrontato il Barcellona. Ognuno di noi si sta abituando alle caratteristiche dei compagni. Il Barcellona gioca assieme da parecchio tempo, ecco perché per loro è più facile. Ora siamo sulla strada giusta, quello di giocare assieme. E più il tempo passa, più la nostra squadra mostrerà miglioramenti. Per Marshall Brooks una responsabilità in più per cercare di portare Milano alle top 16.